allora con sei pronto al volo bravo con seduto che faccia seduto rifacciamo di nuovo e 12 bravo ci sei riuscito bravissimo bravo bravo aspetta come aspetta tu sei buono questo è il premio ora aspetto 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 che vediamo un bravissimo 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 dammi la zampa bravo premio o prendi ok gira fai il giro tondo bravo a volo e 1 e 2 a volo bravo se è stato bravo lo stesso bravo camomilla tu ti stai riposando sulla cuccia di gohan quella è la cuccia di gohan non è la cuccia tua con porta qua camomilla dammi a me dai camomilla tu devi dormire sul diveno questa è la cuccia di gohan qua devi questo è il posto più buono ecco qua le bellezze di qua bravo bravo riposa tieni questo è un pezzo di di che piace a gohan tieni a gohan ti piace molto bravissimo vedi camomilla come bravo gohan suci bravo gohan suce bravo gohan suce bravo si si bravo